Caffona l'ultras, e la chiamano sfilata di stelle. A Roma in passerella per la Festa del Cinema Sgambetta No Star, per mancanza di prove, come Giulia Bevilacqua, Camilla Filippi, Alessandro Roia, Fausto e Lella Berti Nigtes, Franceschini Aelle Guinzaglio di Michela De Biase, Virginia Raggi con Badante Bergamo, Torna Gegia e Tutto perdonato, video. Ciaxi gira, tra red carpe e serata di gran gala. Si apre così la Festa del Cinema di Roma 2017, i riflettori si sono appena accesi, sfilano rappresentanti delle istituzioni e star internazionali. Accolto dal direttore artistico della Kermesse, Antonio Monda, arriva, tra i primi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Arrivano il presidente del Senato Pietro Grasso con la consorte Maria Fedele e il ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini con la moglie Michela De Biase. La sindaca di Roma Virginia Raggi, arrivata con l'assessore alla cultura Luca Bergamo, firma autografi e sorride ai flash. Il red carpe è appena iniziato, ecco Paolo Genovese, il premio Oscar Francesca Lo Schiavo. Torna a sorpresa Shristoff Watz che nel pomeriggio aveva partecipato ad un incontro pubblico. Rosa Mumpi che sfilano in un lungo ed elegantissimo outfit di velluto grigio con Scott Cooper. Eliana Miglio ed Elisabetta Pellini, il lunghissimo, scherzano e posano insieme. E in questa gara di fashion appare Rita Rusick, abito di raso e cintura gioiello. Non mancano l'appuntamento Antonio Cabrini, sempre in gran forma, Fausto e Lella Bertinotti, Alessia Ventura, Monica Guerritore e Roberto Zaccaria, Giulio Base con Tiziana Rocca. Poi la festa prosegue alle UR, al vernissage della mostra Fendi Studios. Film, costumi, spezzoni, perfino una biglietteria vintagge. Questo e molto altro accoglie i 600 invitati. Siamo molto impressionati dal fatto che questa festa sia diventata così importante per la città, vogliamo che esca dall'auditorium e che sia sempre più una festa e meno un festival. Nel Palazzo della Civiltà Italiana, suggestivo e ad quartier della Maison, alle UR, Pietro Beccari, a De Presidente di Fendi, affiancato dalla moglie Elisabetta ricevono l'artista Nico Vascellari, Piera De Tassis, con Francesca Via. Tra le star segnalate Cristiana Capotondi, Claudio Santamaria, Stefano Sollima, Silvia D'Amico, Alessandro Roia, Greta Scarano, Isabella Ragonese, Olivia Magnani e Yvonne Sciò. Si ammirano scene di Evita, Femme Fatale e Grand Budapest Hotel. Tra gli ospiti Vittorio Sgarbi, Lidia Ravera, Claudio Masenza e Maria Sole Tognazzi. Non possono mancare i rappresentanti della famiglia che ha creato il brand tra cui per la schiera delle nuove generazioni Delfina delle Trezze e Leonetta Luciano figlie di Silvia. In un melting pot di cultura e cinofili doc. Grazie per la visione!